Tutte le persone hanno qualche cosa che le trae in modo particolare. Ognuno di noi ha almeno un'idea fissa che rimbalza nel cervello in modo ossessivo. La mia, la mia idea è fissa, è la pesca. Io amo pescare e la pesca è la mia passione. Per me la pesca è molto più di un passatempo. Per me la pesca è una scienza fatta di mille variabili e di mille circostanze che si mischiano tra di loro e che non devi mai sottovalutare. Non devi mai fare l'errore di pensare di aver capito tutto della pesca. Quello che ho capito è che l'unica strategia vincente è una miscela di scienza e intuizione e vi posso garantire che ogni volta che arrivo davanti alle acque di un torrente e provo a pescare mi rendo conto che è davvero così. La mia, la mia, la mia, la mia, la mia. La mia, la mia, la mia, la mia. La mia, la mia, la mia, la mia. La mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia. La mia, la mia, la mia, la mia, la mia.